Abbiamo voluto raccogliere con forza l'esigenza a gran voce espressa dai nostri studenti e dai nostri professori. Dunque, l'Università degli Studi Link diventa per tre giorni il luogo di raccolta delle idee. Vogliamo confrontarci e assicurarci che il futuro sia nelle nostre mani. La cultura digitale gioca il ruolo del player più importante. Bisogna sempre puntare all'eccellenza. Qualsiasi percorso di studio che si intende intraprendere, puntare all'eccellenza vuol dire avere la possibilità di correre sul circuito della concorrenza nel futuro e costruirsi il proprio futuro.